Nuovamente ciao a tutti gli amici di Funghi di Sardegna. Queste sono state giornate piovose e mi sono posto il problema per dove reperire la terra che io utilizzo per coprire le ballette, quindi il terriccio di copertura. Perché? Perché chiaramente fuori la terra è bagnata, è inzuppata d'acqua, è fangosa e non sono sicuramente le condizioni ottimali per poter utilizzare la terra, per poterla grigliare, per poter ricoprire le ballette. Quindi mi sono posto questo dubbio, mi sono detto cosa potrei usare come alternativa. Qualche giorno fa, per l'esattezza una settimana fa, abbiamo iniziato un nuovo esperimento, un nuovo esperimento del quale a brevissimo pubblicheremo il video. L'esperimento è questo qui, guardate. Stavamo coltivando i nostri cardoncelli utilizzando l'argilla espansa. Sta avvenendo un risultato bellissimo, quindi anziché la terra, l'argilla espansa che sta andando veramente bene, tante famiglie sono già spuntate, tante altre stanno iniziando a spuntare in questo momento, quindi il risultato è veramente incoraggiante. Risultato così incoraggiante che mi sono detto, perché, visto che c'è la difficoltà a reperire il terriccio, non facciamo un ulteriore passo avanti. Facciamo un confronto tra l'utilizzo dell'argilla espansa come materiale di copertura e lo confrontiamo con un prodotto che è forse il più acquistato dai coltivatori obbisti, quindi lasciamo da parte l'aspetto professionale, quindi per chi coltiva a casa, quindi è forse il materiale più utilizzato dagli obbisti in casa propria, cioè la torba. Faremo un esperimento, andremo avanti con questa fungaia, quindi proseguiremo oltre, dove avremo argilla espansa e poi oggi simultaneamente faremo una parte con torba e un'altra parte con argilla espansa. In questo modo potremo valutare la differenza intanto nell'accrescimento dei funghi, potremo vedere se con un materiale piuttosto che con l'altro compaiono magari delle patologie fungine, mi riferisco quindi nello specifico alle muffe, vedremo insomma come si comporteranno l'utilizzo dell'argilla espansa rispetto a quello della... Molto bene, ecco cosa ci servirà oggi, ballette di cardoncelli, mi raccomando possibilmente biologiche perché soprattutto, senza soprattutto, sono funghi destinati all'alimentazione umana e io sono per un'alimentazione il più sano possibile. Ballette per i cardoncelli, un cutter per tagliare, per aprire le ballette, dopodiché torba, argilla, mettiamoci al lavoro. Perfetto cari amici, le ballette le abbiamo sistemate, per onor del vero devo dire una cosa, erano ballette che avevo ferme già da un paio di giorni e alcune hanno, guardate, i funghetti già praticamente spuntati, quindi la distribuzione però è più o meno uniforme, un po' di funghetti qui, un po' qui, un po' qua, un po' qua, quindi questo non influirà sul risultato che otterremo, certo, non è il modo migliore per conservare, cioè, conservare le ballette non è mai la scelta migliore, bisogna prenderle fresche e piantarle subito, comunque non sarà un problema. Le ricoprirò di terriccio, qui nello specifico useremo della torba e qui useremo nuovamente la argilla espansa, non sto ad annoiarvi facendovi vedere come lo copro, l'avete già visto in 100.000 video. Ecco qui, lavoro fatto, torba, abbiamo ricoperto tutto, argilla espansa, abbiamo ricoperto tutto. Ora non mi resta che dare un po' d'acqua, lasciamo l'inquadratura qua sopra e io vado a bagnare. Bagnatura a pioggia. La prima bagnatura come sempre abbondante. Perfetto cari amici, sono passati alcuni giorni e i tempi sono maturi per andare a vedere cosa è successo nelle nostre due fungai. Allora, la prima cosa che a me salta all'occhio è che nella fungaia che abbiamo fatto con l'argilla espansa c'è una copertura di funghi maggiore. Intendo dire quindi che la superficie della fungaia è ricoperta maggiormente di funghi, ce ne sono tantissimi, anche molto piccolini che stanno spuntando, alcuni già più grandetti. Mentre nella fungaia che abbiamo fatto col terriccio la copertura di funghi è inferiore. Però va anche detto che i funghi che abbiamo nella fungaia fatta col terriccio sono mediamente più grandi rispetto a questa fungaia fatta con l'argilla espansa. Perché probabilmente è successo questo? L'argilla espansa chiaramente è un tipo di substrato estremamente sciolto, quindi con molta facilità i funghi riescono a spuntare. Ecco perché molto probabilmente sono spuntati tanti più funghi, fanno meno fatica a uscire. A differenza del terriccio. Però il terriccio molto probabilmente riesce a trattenere, quindi ad assorbire e a rilasciare una maggiore umidità. Quindi si bagna di più, si inzuppa di più e maggiormente ritrasferisce quest'umidità al fungo che una volta che è spuntato riesce a crescere maggiormente perché c'è più umidità. Quindi più funghi, ma funghi una volta spuntati che crescono più velocemente. Anche questi chiaramente tra qualche giorno saranno grandi come questi altri, però questi sono diventati grandi più velocemente. In termini di colore, di forma, sono praticamente paragonabili. E credo che sia il momento quindi di fare alcune considerazioni. Quindi, due materiali estremamente validi, due materiali che hanno un costo più o meno sovrapponibile. Un sacco di argilla espansa costa più o meno come un sacco di terriccio. Un vantaggio in termini di tempo per quanto riguarda l'argilla perché l'argilla la mettiamo più facilmente, più velocemente e una volta che andiamo a raccogliere i funghi, i funghi coltivati con l'argilla sono più puliti perché l'argilla non tende a sporcare il fungo. Tra l'altro, se volete approfondire meglio questo dettaglio, vi invito a vedere il video dove lavoro sulla coltivazione esclusivamente fatta con l'argilla. Quindi, i funghi sono più puliti, quelli che ovviamente coltiviamo nel terriccio saranno funghi che saranno leggermente più sporchi. Vedete, guardate, anche qui il terriccio chiaramente in parte rimane sopra il fungo, ma non tanto sul cappello, ma soprattutto quando quelli andremo a raccogliere, alla base del fungo sicuramente troveremo un po' di terriccio, troveremo un po' di sporco, cosa che invece non succede con l'argilla espansa. Quindi, in termini di tempo, l'argilla ha un vantaggio in più, è più veloce e ci permette di avere dei funghi che da subito sono puliti. Vince l'argilla sul terriccio? Non lo so, non lo so, non ve lo so ancora dire. Lo scopriremo tra qualche giorno perché chiaramente poi io dovrò anche capire se c'è una differenza anche in termini di comparsa di malattie, e dobbiamo vedere se un materiale rispetto all'altro ci porta ad avere magari dei funghi più sani, dei funghi magari che si ammalano meno, sia di muffa che di batteriosi, ma questo eventualmente lo scopriremo tra qualche giorno. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, anche perché se tra qualche tempo ci saranno degli sviluppi su queste due fungaie, chiaramente pubblicherò un nuovo video sull'argomento. Se invece non dovesse cambiare niente rispetto alla situazione odierna, ci potremo fermare così. Quindi ragazzi, se questo video vi è sembrato utile, vi è piaciuto, mettete mi piace, e soprattutto iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno sull'argomento. Ciao a tutti da Andrea di Funghi di Sardegna. Ciao ragazzi!